Salute e turismo sostenibile, un patto per la qualità dell'aria. Nasce il primo parco europeo del respiro nel territorio del parco regionale Sirente-Velino. Una certificazione prestigiosa per l'area protetta e per l'intera regione Abruzzo. Si lavora già a percorsi ed itinerari balsamici. La presentazione del primo parco europeo del respiro, un progetto importante che vede il parco regionale Sirente-Velino protagonista. Assolutamente sì, è una bellissima iniziativa, un grande orgoglio, grande soddisfazione. Siamo il primo parco europeo, a livello europeo, quindi la dimostrazione che il parco regionale può essere un modello, può essere un soggetto che può dare il senso di quelle che devono essere le attività che all'interno delle aree protette devono farsi. Noi in questi anni stiamo investendo molto per legare al territorio, per legare ai comuni, ai cittadini che ci risedono e soprattutto per far fare un salto di qualità a quella che è l'area protetta regionale per eccellenza, che è il parco regionale. E la certificazione che si è ottenuta oggi, la partecipazione ai borghi del respiro, ma diventandone il primo parco a livello europeo, è la testimonianza delle grandi attività che vengono fatte. Elemento che poi certifica un altro aspetto, ciò che noi stiamo raccontando in giro per l'Italia, per le cose nel mondo, che l'Abruzzo è una regione unica e eccezionale, è una regione che è in grado di avere in meno di un'ora mare e montagna e all'interno della nostra regione i nostri prodotti, perché raccontando quella che è la parte dell'agricoltura, i nostri prodotti sono tra virgolette migliori degli altri, soprattutto sotto l'aspetto ambientale. e la certificazione del parco del respiro, del borghi del respiro, certificano che sostanzialmente l'area è sicuramente di altissima qualità e quindi non seconda a nessuno, mettiamola così, questo per dire cosa? Che queste iniziative, questa rete, la rete del borghi del respiro, la rete che poi oggi vede per la prima volta la partecipazione e la rete del parco regionale, quindi modello a livello europeo, ci mette nuovamente nelle condizioni di dire che questa regione è una terra unica, è una terra fantastica e le iniziative che stiamo facendo saranno sostenute, saranno elemento di partenza per una regione su cui crediamo che l'ambiente sia un valore e sia un'opportunità per far crescere i nostri territori. Francesco D'Amore, presidente del parco regionale Sirente Velino, la presentazione di un altro progetto che vedrà il territorio del parco protagonista, il primo parco europeo dei borghi del respiro. Sì, questo è un percorso che abbiamo iniziato due anni fa, quando come sindaco di Fagnano ho raggiunto questo risultato, come Fagnano, borghi del respiro, e nel ritiro appunto della certificazione a Scanno, nella festa di due anni fa, ho lanciato questa proposta, cioè perché non fare il primo parco dei borghi del respiro, immaginavo d'Italia, visto che ci sono già dei comuni all'interno del parco Sirente Velino che erano borghi del respiro. E così l'associazione si è messa al lavoro e quest'anno ha raggiunto il risultato dopo aver fatto la certificazione di tutte le aree dei nostri 22 comuni, e quindi tutti i 22 comuni del parco saranno sabato alle 10.30 a Rocca di Cambio, dove ci sarà la festa dei borghi del respiro, saranno certificati e consegnati ai sindaci dei comuni tutte le certificazioni, e subito dopo sarà proclamato il parco Sirente Velino, primo parco dei borghi del respiro d'Europa. Un titolo che garantirà anche una nuova immagine all'intero territorio, in particolare all'ente parco, un brand. Esattamente, Cristin, perché in questi anni abbiamo visto, soprattutto dopo il Covid, quanto è attuale questa iniziativa che abbiamo preso, perché siamo stati invasi in questi anni da turisti per i nostri spazi, il nostro ambiente, per la nostra area, e quindi volevamo certificare tutto questo e farne proprio una proposta di brand, di promozione del nostro territorio. E sinceramente in questi anni sono stato sollecitato, visto anche la certa vivacità del nostro parco, dalla stessa regione, magari a partecipare alla BIT, però io non me la sono sentita di andare, perché dicevo sempre io devo andare alla BIT con un mio tour operator a dire perché devi venire nel parco Sirente Velino a fronte di tanti altri parchi in Italia, non è lo stesso Abruzzo. E credo che ci stiamo dando una nostra identità e ci siamo messi già al lavoro per individuare alcuni percorsi balsamici da poter mettere a disposizione dei nostri cittadini e soprattutto dei turisti. Vincenzo Colorizio, pneumologo aquilano e presidente dell'Associazione Nazionale Borghi del Respiro. Che cosa sarà il primo parco europeo dei Borghi del Respiro? Siamo particolarmente orgogliosi di sabato prossimo proclamare il primo parco europeo del respiro insieme con il sindaco di Fagnano, presidente del parco, Francesco D'Amore. Siamo veramente orgogliosi perché saranno 22 comuni e 14 nuovi entranti, perché già 8 c'erano, i quali firmeranno il patto del respiro e quindi saranno orgogliosi, ma si impegneranno anche a rendere ancora più i loro luoghi accessibili, soprattutto per percorsi storici, spirituali, e scegliere 33 azioni per migliorare ulteriormente la salute e la qualità della vita, sia dei residenti che dei turisti. Veramente siamo orgogliosi perché in questo momento ci sentiamo alla pari delle regioni del nord, alla pari del Trentino Alto Adice, che quando si arriva lì dice sempre venite in Trentino la regione del respiro. La città del respiro è l'Aquila e la regione del respiro siamo noi.